Un piccolo corazzato leggero nemico. Ehi, ho localizzato un mezzo corazzato leggero nemico. Aereo nemico localizzato si trova a nota della tua posizione. Obiettivo Delta è neutral. Mi serve un passaggio. Stato visivo con un elicottero ne... Obiettivo Delta è sempre a fino all'infrastrante. C'è un cecchino nemico. Aerto della tua posizione.